Salab d'Islam è stato estradato dal Belgio e consegnato alla giustizia francese. L'uomo 26 anni, accusato di essere la mente del commando responsabile degli attentati del 13 novembre, costati la vita a 130 persone, era stato arrestato a Bruxelles il 18 marzo. Il giorno dopo la sua cattura, Parigi aveva presentato un mandato di arresto europeo. La notizia dell'estradizione anticipata in mattinata da un quotidiano belga è stata confermata dal procuratore federale di Bruxelles. Il magistrato ha chiarito che il trasferimento dalla prigione di Beveren avvenuto in elicottero si è concluso alle nove. In giornata Abdeslam, nato in Belgio ma di nazionalità francese, comparirà davanti al giudice istruttore.